Parliamo dello sgombero che c'è stato questa mattina. È molto positivo, penso che sia uno di altri che avverranno nelle prossime settimane. Infatti proprio per questo ringrazio anche il questore. In realtà ne avevamo parlato già qualche giorno fa, abbiamo avuto un incontro privato insieme all'assessore Saia e anche all'assessore Grigoletto dove abbiamo parlato di varie iniziative per il comune e per il territorio, soprattutto per i comuni di Padova e il territorio che verrà concretizzato in una conferenza che faremo a breve insieme al prefetto e al questore e per il comitato per l'ultimo pubblico che verrà convocato a brevissimo dove tratteremo oltre a questi temi anche la situazione a cui tengo molto che è quella delle sale slot. Quindi questo è uno dei primi, sapete che c'è stata una collaborazione della Questura con la Polizia Urbana, la Polizia Municipale e continuerà questo tipo di collaborazione insieme alla Questura e ai Carabinieri. Grazie.